E' vero che la nostra è la miglior scuola della provincia? E' vero che la nostra è la miglior scuola della provincia? Certamente! Eccellente! Come si può definire il fenomeno di una così altra concentrazione di cervelloni in questa scuola? Ma... forse è l'acqua termale di Rizzone? Non avrò quello che desidero Nessuno lo ha L'iniziativa dell'anno Galileiano, le cui assemblee si tengono nel nostro auditorium, si sta rivelando all'altezza delle aspettative e degli interessi dei giovani? E' vero! Zuppa! I giovani sono sempre molto interessati alle scoperte scientifiche, soprattutto quando si usa un linguaggio facile che stimola la loro curiosità, quindi è stato un successone Cercare, probabile, sarcasmo Un saluto ai telespettatori Ciao a tutti Grazie 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 Grazie